Si terrà venerdì prossimo il seminario tecnico organizzato dalla UIL di Terra Ionica per promuovere lo sviluppo del nostro territorio partendo dal porto all'aeroporto. A confronto dunque esperti del settore e professori universitari, l'iniziativa mira la creazione di nuova occupazione anche a Taranto. Adesso cerchiamo di invertire la marcia e fare un seminario di studi per approfondire quali possono essere sia i proventi che vengono da finanziamenti europei e regionali per il rilancio complessivo della nostra città nel senso del porto e dell'aeroporto. Quindi queste due situazioni importanti che potrebbero dare certamente lo sviluppo al nostro territorio. Anche in previsione di quello che la regione Puglia ha varato come il piano corsaro, come il piano per il sud e per quanto attiene il distri park e le infrastrutture strutturali. A questo punto si tratta di mettere attorno a un tavolo sì professori che spiegano la materia ma di recepire a chi ha le leve di poter mettere in moto lo sviluppo a Taranto e mi riferisco al comune, provincia e regione perché le cose si facciano. Si chiama tra terra e cielo il seminario di studio, un seminario di tipo tecnico che si terrà venerdì prossimo e che metterà a confronto le diverse realtà del territorio, esperti del settore. In primo piano si parlerà del porto e dell'aeroporto di Taranto, quali strumenti importanti di sviluppo del nostro territorio. Architetto La Gioia. La Gioia ha voluto organizzare questo seminario di approfondimento, un seminario tecnico perché bisogna discutere di quelle che sono le strategie nazionali e comunitarie per quanto riguarda lo sviluppo dei territori. È molto importante affinché un territorio sia competitivo che riesca a trovare una programmazione che sia in linea con quelle che sono le linee generali che sia la comunità europea che il governo nazionale ha inserito in quelli che sono i progetti strategici internazionali. E in questo Taranto come si pone nell'obiettivo internazionale che è già stato discusso in area vasta ma che avrà proprio come motivi di approfondimento anche con l'intervento sia di un funzionario ministeriale, l'architetto Giacobone che è un esperto nello sviluppo dei territori e dei progetti internazionali, sia la regione Puglia, la provincia e l'area vasta di Taranto.